La Musifavolista Audiolibri presenta La signora sul cavallo grigio, di John Collier, letto da Valentina Ferraro. Disponibile su Spreaker, YouTube, Spotify e tutte le maggiori piattaforme podcast. Buon ascolto. Ringwood era l'ultimo rampollo di una famiglia anglo-irlandese che aveva fatto il diavolo a quattro nella contea di Clare per qualcosa come tre secoli. Da ultimo, tutte le loro grandi case erano state vendute o erano state incendiate dagli irlandesi esasperati e tutti i loro acri di terra erano andati perduti sino all'ultima spanna. Ringwood, in ogni modo, aveva qualcosa di rendita di suo e, se le proprietà della famiglia erano svanite, aveva ereditato almeno un certo istinto di famiglia che lo spingeva a considerare l'Irlanda intera dominio suo e a compiacersi che vi abbondassero cavalli, volpi, salmoni, cacce e ragazze. Alla ricerca di tali piaceri, Ringwood girava e vagava da Donegal a Wexford in ogni stagione. Poche erano le riserve in cui non avesse guidato la battuta su una cavalcatura presa a prestito. Pochi erano i ponti alle cui spallette non si fosse appoggiato in una mattina di maggio e poche erano le locande nella cui Sala non avesse russato un pomeriggio piovoso d'inverno davanti al fuoco. Ringwood aveva un amico a nome Bates della sua stessa specie e del suo stesso genere. Bates era parimenti lungo e magro e parimenti a corto di denaro e aveva una medesima faccia ossuta arrossata dal vento, un uguale e frusta arroganza, un identico modo da signore nell'accostare fanciulle in capanni e stalle. Nell'uno nell'altro dei nostri due personaggi ebbe mai a scrivere lettere, eppure entrambi sapevano sempre dove poter trovare l'amico. Il controllore, allorquando con rispettosa cecità afforava il biglietto di terza classe di Ringwood in uno scompartimento di prima classe, diceva che Bates aveva viaggiato su quella stessa linea non prima del giovedì scorso per fermarsi a Killorglin una o due settimane a caccia di beccacce. La serva, nell'umida camera da letto di una locanda da pescatori, pur timidamente avrebbe trovato il modo di dire a Bates che Ringwood se n'era partito per l'Afkarib alla pesca del luccio. Poliziotti, sacerdoti, commessi viaggiatori, guardacaccia e anche stagnini ambulanti sulle strade maestre trasmettevano questi messaggi orali. Allora, se pareva all'uno che l'amico si accingesse ad alcunché di pregevole, si sarebbe rifatta la consunta sacca da viaggio, avrebbe riposto fucili e lenze nelle apposite custodie, avrebbe preso la strada per raggiungere il luogo del nuovo di porto. Ora avvenne che in un pomeriggio d'inverno Ringwood, mentre tornava dalla parude di Bellerny, dopo una giornata singolarmente infruttuosa, fu salutato a gran voce da un mercante di cavalli guercio, suo conoscente, che se ne veniva al trotto in Baroccio, veicolo di cui ancora non pochi si servono in Irlanda. Questa degna persona disse al nostro amico di giungere appunto da Galway, dove aveva veduto Bates in cammino alla volta di un villaggio, Knockderry. Bates gli aveva espressamente raccomandato di dirlo a Ringwood, se si fosse imbattuto in lui. Ringwood esaminò fra sé questo messaggio, né gliene spuggì la singolarità, che non vi si accennasse se l'amico era andato a pescare, o a caccia, o se aveva trovato un creso con una filza di cavalli pronto a prestarglieli. Certamente avrebbe detto cos'era se fosse stata una cosa di questo genere. Mi gioco la testa che è capitato sulla pista di due sorelle. Deve essere così. A questo pensiero soggignò, arricciando la punta del lungo naso come una volpe, e non frappose indugi a preparare il bagaglio e a partire per questo posto, Knockderry, che non aveva mai visto prima in tutto il suo girare su e giù per l'Irlanda, a caccia di quadrupedi, volatili e ragazze. Trovò che il posto dove doveva andare era un bel tratto fuori dai cammini usuali, in una zona vuota e tranquilla. Tutto era come di norma. Squallide colline all'intorno, un fiume nella valle e la consueta torre in rovina su una modesta altura circondata da un bosco rado rado, a cui si giungeva seguendo quei che rimaneva di un vecchio viale. Il villaggio stesso era come tanti altri, miserande casupole a gruppi, un mulino in sfacelo, cinque o sei spacci di birra e una locanda alla quale era concepibile alloggiare per un signore, purché fosse avvezzo alla cucina di campagna. La vettura lo lasciò là. Ringwood entrò a grandi passi, trovò la padrona di casa e le chiese del suo amico Bates. «Oh, certo, signore», disse la locandiera. «Il signore è qui, almeno è qui per modo di dire, e adesso non è qui». «Come?», disse Ringwood. «C'è qui la sua valigia», disse la locandiera. «E ci sono qui le sue cose e tengono occupata la mia stanza più grande. Però ce n'ho un'altra che è bella come quella in tutto e per tutto. Il signore è stato qui quasi una settimana, però l'altro ieri è uscito per fare una passeggiata e, è incredibile, dopo non l'abbiamo più visto, neanche per sbaglio». «Tornerà», disse Ringwood. «Mi dia una camera, starò qui ad aspettarlo». Così si stabilì alla locanda e aspettò tutta la sera, ma Bates non comparve. In ogni modo, fatti di tal genere non stupiscono nessuno in Irlanda e l'impazienza di Ringwood era dettata solo dal fatto di quelle due sorelle che aveva gran premura di conoscere. Per un giorno o due passò il tempo a girellare su e giù per tutte le stradine e i sentieri dei dintorni, con la speranza di scovare quelle bellezze o anche qualcun'altra. Non aveva preferenze sul tipo, ma più che altro avrebbe gradito una ragazza di una di quelle casupole, da che non voleva perdere tempo in preamboli complicati. S'era al secondo pomeriggio e stava cominciando a calare la foschia. Ringwood era più di un chilometro fuor del villaggio quando incontrò un drappello di vacche infangate che venivano avanti per la strada e una ragazza che le guidava. Il nostro amico diede un'occhiata alla ragazza e si arrestò di colpo sui suoi passi, sogghignando più che mai come una volpe. La ragazza era ancora quasi una bambina e le sue gambe nude erano macchiate di fango e graffiate dai rovi, ma era tanto graziosa che il sangue da signori di tutti i Ringwood prese a bollire nelle vene dell'ultimo rampollo, il quale provò un irrefrenabile desiderio di bere un bicchiere di latte. Allora aspettò un minuto o due, poi proseguì pigramente per il sentiero proponendosi di voltarsi non appena avesse scorto la stalla e di chiedere allora questo innocente ristoro e di intavolare magari una breve conversazione durante l'acquisto. Ma si dice che le fortune non vengano mai sole a somiglianza delle disgrazie. Mentre Ringwood seguiva la sua ammaliatrice giurando a se stesso che in tutto il paese non poteva trovarne una più bella, udì il tonfo degli zoccoli di un cavallo, sollevò lo sguardo ed ecco c'era un cavallo grigio che gli si avvicinava al passo e doveva essere svoltato sulla strada da una qualche scorciatoia perché certo un momento prima non c'era stato nessun cavallo in vista. Un cavallo grigio non è una gran cosa, specie quando si ha un desiderio tanto impellente di bere un bicchiere di latte. Peraltro questo cavallo grigio era diverso da qualsiasi altro della stessa razza e dello stesso colore per due ragioni. In primo luogo non era un cavallo di nessuna specie, né da sella né da caccia, e batteva gli zoccoli sul terreno in modo bizzarro e poi aveva un collo arcuato e una testa piccola e larghe narici che non mancavano del tutto di distinzione. In secondo luogo, e ciò distrasse Ringwood da ogni curiosità sulla sua razza e il suo pedigree, questo cavallo grigio portava in groppa una ragazza che, certo e sicuro, era la più bella ragazza che Ringwood avesse mai visto in tutta la sua vita. Ringwood la fissò ed ella venne avanti lentamente attraverso la foschia e alzò gli occhi e lo fissò. Ringwood d'un tratto dimenticò la ragazzina e le sue vacche, anzi, dimenticò ogni altra cosa di questo mondo. Il cavallo venne più vicino. E ancora la ragazza lo guardò e Ringwood la guardò. E non fu un mero scambio di sguardi. Furono promesse nozze, piene e perfette nel corrispondersi e nel trasfondersi degli sguardi. Un attimo più tardi, il cavallo l'aveva portata alle sue spalle e, sveltendo un po' il passo, se lo lasciò addietro, fermo sulla strada. A stento avrebbe potuto rincorrerlo o chiamarlo. In ogni modo, era troppo stranito per far altro che guardare impalato. Osservò il cavallo e la cavalcatrice andare oltre nel crepuscolo invernale e la vide svoltare in una scorciatoia appena tracciata un poco più avanti lungo la strada. Mentre svoltava, lei volse il capo e fischiò. E Ringwood si accorse che il cane di lei gli si era fermato vicino e gli annusava le gambe. Per un istante pensò fosse un alano un po' piccolo, ma poi vide trattarsi di un bastardo alto, magro e peloso. Lo osservò correrle dietro zoppicando a coda bassa e lo colpì il fatto che la povera bestia avesse ricevuto da poco una feroce bastonatura. Ne notò le tracce dove il pelo era più rado, sulle costole. Comunque si fosse, aveva poco da pensare al cane. Non appena si riprese dall'emozione, si mosse in direzione della scorciatoia. La ragazza era già fuori dalla sua vista quando vi giunse, ma Ringwood riconobbe il viale abbandonato che conduceva alla torre diroccata sull'altura. Pensò di averne abbastanza per quel giorno. Così volse il proprio cammino alla locanda. Bates era ancora assente, ma era meglio. Ringwood voleva aver libera la sera per elaborare un piano d'azione. «Quel cavallo non può costare più di venti sterline», si disse. «Dunque non è tanto ricca. Meglio, molto meglio. E poi non era un granché ben vestita. Non so cosa aveva indosso. Una specie di mantello o qualcosa del genere. Non roba da Bond Street, in ogni caso. E vive in quella vecchia torre. Avrei creduto che fosse tutta crollata dentro. Invece in fondo ci deve essere una stanza o due. La casa della miseria. Vecchia scuola. Sangue blu. Niente soldi. Allanguire in questo buco dimenticato da Dio a miglia e miglia dal mondo. Probabilmente non vede neanche un uomo all'anno. Non c'è da stupirsi che mi abbia guardato. Grandio, se fossi sicuro che vive sola laggiù non avrei un gran bisogno di esserle presentato. Però potrebbe esserci un padre o un fratello o qualcuno. Non importa, mi arrangerò». Quando la locandiera portò la lampada, «Mi dica», le chiese, «chi è quella giovane signora che cavalca a un grigio. Sembra un cavallo testardo, strano, fuori moda». «Una giovane signora?» disse esitando la locandiera. «Su un cavallo grigio?» «Sì», rispose. «Mi ha sorpassato là, sul sentiero. Ha svoltato nel vecchio viale verso la torre». «Oh, Maria Santa, vi protegga», disse la buona donna. «Deve essere la bellissima signora Marrof, quella che avete visto». «Marrof? Si chiama così?» «Bene, bene, bene. È un bel nome antico di qui, di queste parti». «Davvero?» disse la locandiera. «Una volta erano re e regine nel Connacht prima che venissero i sassoni. E lei ha un volto da regina», mi hanno detto. «Hanno ragione», disse Ringwood. «Potreste portarmi l'acqua e il whisky, signora Doyle. Me ne starò qui bel comodo». Trovò l'impulso di chiedere se la bellissima signora Marrof avesse qualcosa come un padre o un fratello alla torre, ma il suo motto era «Meno si parla, più presto si fa», specialmente in affari del genere. Così si sedette davanti al fuoco, ripensando e assaporando lo sguardo che la ragazza gli aveva lanciato, e concluse che gli bastava una scusa qualsiasi per presentarsi a lei alla torre. Ringwood non era mai a corto di pretesti. Il pomeriggio successivo si azimò per bene e uscì alla volta del vecchio viale. Girò per la scorciatoia e si inoltrò sotto gli alberi incolti e strillanti, coperti di edera e tanto cresciuti che già sotto vi si addensavano le tenebre. Guardò avanti per dare un'occhiata alla torre, ma il viale faceva una curva in fondo e la torre restava nascosta nella prospettiva degli alberi. Quando giunse alla fine del viale, vide qualcuno in piedi, là in fondo, e guardò di nuovo. Ed era proprio la ragazza che se ne stava là come se lo aspettasse. «Buongiorno, signorina Marrof», disse lui non appena giunse a portata di voce. «Spero di non essere inopportuno. Il fatto è che mi pare di aver avuto il piacere di incontrare un vostro parente a Cork il mese scorso». Intanto le giunse abbastanza vicino per vedere lo sguardo degli occhi di lei una volta ancora, e quelle parole senza senso gli morirono in bocca, perché quello sguardo era qualcosa al di là di ogni parola e di ogni senso. «Pensavo che sarebbe venuto», disse lei. «Grande io», disse lui. «Anch'io. Ma mi dica, lei vive qui da sola?» «Tutta sola», disse lei, e stese la mano come per condurlo con sé. Ringwood, benedicendo la sua buona stella, stava per prendere quella mano quando il suo magro cane balzò fra loro e quasi lo fece cadere. «Giù», diridò lei alzando la mano. «Va via!» Il cane si acquattò e mugolò, e le strisciò dietro trascinandosi quasi sul ventre. «Non c'è da fidarsi di questo cane», disse lei. «Ma no», disse Ringwood. «Sembra un vecchio amico. Sembra che mi conosca. Mi piace questo bastardo. Brava bestia. Cosa c'è? Cerchi di dirmi qualcosa, vecchio?» Ringwood faceva sempre dei complimenti ai cani delle signore, e di fatto la bestia uggiolava e mugolava nel modo più sorprendente. «Buono!» disse la ragazza, sollevando di nuovo la mano. Il cane tacque. «È una bestiaccia», disse a Ringwood. «Lei non sarà venuto qui per fare gli elogi di questa bestiaccia di sangue misto, no?» In quella gli palesò di nuovo i suoi occhi, e lui dimenticò il povero cane, e lei gli tese la mano, e questa volta egli la prese, e camminarono insieme verso la torre. Ringwood era al settimo cielo. «Che fortuna!» pensava. «In questo momento potrei essere in una qualche stalla umida e fetente, accarezzare quella sgualdrinella da cascina. E c'è da scommettere che farebbe la mocciosa, e piangerebbe e correrebbe a casa a dirlo alla mamma. Questa adesso è una cosa un po' diversa». In quel momento, la ragazza spinse e aprì una pesante porta, e ordinando al cane di restare fuori, accompagnò il nostro amico attraverso un atrio vuoto, nudo, lastricato di pietra, e poi in una piccola stanza avvolta, che certo non rassomigliava punto a una stalla, tranne che forse sentiva un po' di umido e di muffa, come avviene sovente in tali vecchi ambienti. Così c'erano dei ciocchi che ardevano sulla nuda terra, e un lungo largo giaciglio presso il fuoco. Per il resto, la stanza era immobiliata con la massima semplicità e in uno stile molto antico. «Un tocco alla Kathleen di Julian», pensò Ringwood. «Bene, bene, nel crepuscolo dei Celti siederemo sognando d'amor. Lei certo non starà a fare tante storie». La ragazza sedette sul giaciglio e lo attrasse giù accanto a sé. Tacevano entrambi. Nessun suono sudiva, tranne il vento fuori e il cane che grattava e uggiolava timidamente alla porta della stanza. Alla fine, la ragazza parlò. «Lei è un sassone», disse. «Non me ne faccia una colpa», disse Ringwood. «I miei vennero qui nel 1656. Certo, è cosa di ieri dal punto di vista della Lega Gaelica, ma in ogni modo credo che ormai non si abbia delle radici nel paese». «Sì, nel cuore del paese», disse lei. «È di politica che vogliamo parlare», disse Ringwood, dando un accento irlandese a queste parole. «Noi due, qui seduti davanti al fuoco?» «È d'amore che lei vorrebbe parlare», disse lei con un sorriso. «Ma lei è un uomo tale da confondere le povere ragazze d'Irlanda e da farsene beffe». «Lei mi giudica veramente male», disse Ringwood. «Io sono un uomo tale da vivermene solo e triste, in attesa dell'unico amore, anche se debba sembrarmi al di là d'ogni speranza». «Oh, certo», disse la ragazza. Ieri però lei stava a guardare una delle ragazze Connell che guidava le sue mucche lungo il sentiero. «Stavo a guardarla? Voglio arrivare ad ammetterlo, ma quando vi di lei me ne sono completamente dimenticato». «Questo volevo», disse lei, porgendogli entrambe le mani. «Ora vuol restare qui con me?» «Oh sì, è questo che voglio», esclamò Ringwood con trasporto. «Per sempre?», chiese lei. «Per sempre!», esclamò Ringwood. «Per sempre! Per l'eternità!». Sapeva che è meglio peccare un po' di eccesso piuttosto che mancar di cortesia con una donna. Eppure, mentre parlava, lei fissò su di lui lo sguardo e lo guardò fisso fisso come se credesse che lui credesse davvero alle proprie parole. «Ah!», gridò Ringwood. «Lei mi sta stregando!» e prese fra le sue braccia. Posò le sue labbra sulle sue, ed un tratto si sentì rapito. Di solito si vantava ad essere un giocatore abile e freddo, ma questa era come un'intossicazione, troppo forte per le sue forze. La sua mente parve dissolversi nella dolcezza e nel fuoco, e alla fine il fuoco svanì e col fuoco svanirono i suoi sensi. Mentre si perdeva via, la sentì dire «Per sempre! Per sempre!» e poi tutto scomparve e cadde profondamente addormentato. Dovette dormire alquanto. Parve svegliarsi per l'aprirsi e il chiudersi della pesante porta. Per un momento restò confuso e astento capì dove fosse. Ora la stanza era completamente al buio. Il fuoco s'era ridotto a un pallido bagliore. Sbatté le palpebre, drizzò le orecchie, cercò di scuotersi, di destare i propri sensi. D'un tratto udì Bates che gli parlava, mugolando come se anche lui fosse mezzo addormentato, o meglio, mezzo ubriaco. «Hai proprio voluto venirci qui!» disse Bates. «E ho fatto di tutto per fermarti!» «Oh, salve!» disse Ringwood, pensando di essersi appisolato via davanti al fuoco nella sala della locanda. «Bates! Grandio! Devo aver dormito sodo! Mi sento intontito! Maledizione! Così è stato solo un sogno! Accendi un lume, vecchio! Deve esser tardi! Adesso chiamo per la cena!» «No, per amor del cielo!» disse Bates, sempre con quella voce alterata. «Non chiamare! Lei ci bastonerà se chiami!» «Cosa?» disse Ringwood. «Bastonarci! Che diavolo dici?» Allora un ciocco rotolò a terra e ne guizzò una fiammella, ed egli vide le proprie zampe anteriori lunghe e pelose, e capì. Spero che questa storia ti sia piaciuta. È stata registrata al 33 Hertz Studio, lo studio con cui collaboro. Se vuoi conoscere meglio il mio lavoro, se vuoi commissionarmi un audiolibro o una lettura, trovi tutti i miei contatti nella descrizione di questo episodio. Noi ci sentiamo al prossimo racconto di storie per notti insonni. Ciao!